Aperte le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 40 si attendono le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico sul siero da somministrare o a vettore virale a RMNA. Intanto sono stati sospesi tutti gli open day, le vaccinazioni saranno effettuate alle categorie già in elenco solo su appuntamento. Per i soggetti sani anche dai 50 in 59 saranno somministrati i vaccini a vettore virale. Sono 88.940 le dosi di vaccino anti-covid età prima e seconde dosi somministrate in provincia di Caltanissetta dall'inizio della campagna vaccinale. Di queste più di 30.000 inoculazioni sono state eseguite nel lab di Caltanissetta, ovvero il CERPAS.